Buona domenica 6 novembre a tutti, eccoci ad un'altra analisi molto attesa, quella sull'indice italiano, sul MIB. Oggi vorrei farla un pochino differente rispetto al solito e rapportare il grafico agli altri grafici che stiamo vedendo. Come sapete ci stavamo chiedendo se qui fosse partito un annuale già vincolato ribasso oppure un raccordo, ovvero una finta rialzo con ribasso, prima della partenza di un reale annuale. Con il movimento fatto venerdì, con questa candela che ha superato tutte le precedenti, sembra che proprio questo possa essere un raccordo e questa è la reale partenza di un nuovo annuale, perlomeno, o anche qualche cosa di più perché abbiamo violato tutti gli swing rialzo. Oltretutto abbiamo più candele verdi su questa salita che da qualsiasi altra parte, anche qui non c'è la stessa pendenza, eccetera. L'analisi fatta venerdì, due giorni fa, che dovevamo prepararci al rimbalzo, infatti era corretta perché che cosa è successo? Siamo solo andati su dopo aver fatto un piccolo nellino alle 9 e qualche cosa e non è stato praticamente più possibile entrare. Anche i dati hanno fatto fare una sorta di doge allungata e poi si è continuato solo a salire. E con questa salita abbiamo, peraltro, vincolato a rialzo il terzo ciclo settimanale, inverso. Allora, abbiamo vincolato a ribasso l'inverso e quindi a far salire i prezzi e quindi a rialzo tutto questo movimento. Ma questo grafico, il target raggiunto che era stato dato, è uguale agli altri che vediamo su DAX e sui due indici americani? Il DAX è salito così tanto? Ve lo faccio vedere subito. La risposta è quasi, nel senso che abbiamo avuto un massimo a 13.542, quindi leggermente sotto questo. L'aspettativa è di rialzo comunque per la prossima settimana, ma siamo rimasti qui sotto. Il MIB ha sovraperformato tutti gli altri. Tutti gli altri perché? Perché se andiamo a vedere l'S&P 500, qui la situazione non è proprio idilliaca. Anzi, se purtroppo avremo una conferma di una chiusura di un trimestrale qui, male male, perché avremo la conferma di un annuale già ribassista a partire da qui. E quindi non potremo che continuare a scendere. Qui, su Nasdaq, quanto siamo saliti rispetto al MIB? Non so se avevate notato questa cosa. S&P, Nasdaq. Anche qui, sembra che si stia ormai andando a confermare il fatto che qui c'è un annuale ribassista. È stato violato lo swing per la sua partenza. Abbiamo avuto almeno 48 giorni sopra questo minimo, anche di più in realtà. Quindi le due condizioni sono state assolte. E ogni rimbalzo si rischia di tornare giù. Capite che qui la situazione sta diventando drammatica. Mentre invece, su MIB, massimo assoluto dal 16 di agosto. Volevo farvi vedere queste cose, perché in tanti si sono abituati bene in questi ultimi anni. Tutti gli indici andavano più o meno nella stessa parte. C'erano differenze, per carità vi ho fatto vedere quanto ha lateralizzato il DAX rispetto all'S&P 500. Però, tutto sommato, orientativamente, le cose sono sempre andate abbastanza di pari passo. Con questa sparata all'insù del MIB, con questa forza relativa decisamente più alta del DAX, ci stiamo staccando nettamente dagli indici americani. Nettamente proprio, senza alcuna ombra di dubbio. Sull'italiano, come vi dicevo, mi viene proprio da pensare che questo sia un raccordo tra biennali. E che da qui sia partito un vero biennale. Avendo già 17 giorni sopra un minimo, qui possiamo serenamente fare T più 3, barra 4. Una roba che si stacca, ma proprio in maniera pesante. Anche qui, però, come al solito, dovremmo fare i conti con l'inverso. Che cosa ci dice l'inverso? L'inverso ci dice questo, perché non sono opinioni, ma sono numeri. Ok? Metodo statistico-matematico. Siamo arrivati a 113 giorni, non avevo ancora aggiornato, di secondo semestrale inverso. Quindi, facciamo un passo indietro. Torniamo a vedere i massimi assoluti, qua. Tra l'altro, facciamo che aggiornare anche questi. Con la candela verde siamo a 214. Essendo arrivati a 214 barre di inverso, abbiamo superato il minimo che può durare un ciclo annuale inverso? 192, 214. Sì, sì, sì. 100%. Vogliamo approssimare quello ribassista, ok? L'inverso, voglio dire. Primo semestrale inverso, secondo semestrale inverso, con condizione necessaria e sufficiente, già fatta per la chiusura dell'annuale inverso, c'è da completare che cosa? C'è da completare qui che cosa? Semplice, che cosa c'è da completare? C'è da completare il nostro mensile inverso, che è arrivato a 23 barre su minimo 24. Quindi, una candela per chiudere, per avere la condizione necessaria e sufficiente per chiudere, questo mensile inverso, due candele per andare a chiudere, con una condizione sufficiente, questo terzo T inverso, massimo, partenza dal massimo a 23.101. Uno, due, tre, quattro candele, due candele e abbiamo la condizione necessaria per chiudere il settimane all'inverso come da analisi. Poi inizierei ad avere un po' di paura che mi venga addosso un nuovo annuale inverso. Due giorni minimo di salita per aggiornare questo massimo a 23.392, poi paura. Attenzione, ragazzi. La condizione, tutte le condizioni ci sono. Abbiamo un secondo semestrale inverso, il secondo dell'annuale inverso, a 113 barre e quanti ne dura? Minimo 96. Condizione rispettata. Come detto, una candela per chiudere con un top assoluto questo secondo mensile inverso, due per chiudere settimanale inverso, poi io inizierei ad avere paura a ragionare di long, di posizioni long, se non si continuano a violare dopo la partenza di un settimanale i massimi. e anche se ci fosse una violazione dei massimi con un settimanale inverso in essere, aveva paura di un raccordo, di qualsiasi cosa ci possa essere tra un annuale inverso ed un altro annuale inverso. Tra un annuale inverso e un altro annuale inverso sappiamo che cosa può esserci, che tipo di raccordo, quanto dura e tutto il resto. Ma in ogni caso, adesso bisogna iniziare a ragionare di quello. Quanto serve a qui per far partire un annuale sopra questo minimo? Serve un sottociclo di due gradi inferiori rispetto al t più 5 che sarebbe l'annuale. Qua trovate sempre la leggenda. Per cui, cosa ci serve per far partire un nuovo annuale? Due gradi inferiori, uno, due, ci servono 48 giorni minimo sopra questo minimo. Scusate il gioco di parole. 48 meno 17, facciamo 50 meno 17, fa 33, è vero che bisogna rimanere 33 giorni qui sopra, sopra questo minimo. Quindi due mesi e passa probabilmente di borsa aperta. Però, però, ecco, iniziamo a fare molta attenzione alla posizione rialzo, dopo la chiusura di questo settimanale inverso, dopo la chiusura di questo mensile inverso. perché entriamo in una zona che si può definire come un campo minato, per quanto riguarda l'inverso. Siamo tra l'altro arrivati a target, per quanto riguarda il discorso di media mobile a 200 periodi. Sì, sì, possiamo provare a superarla, poi vediamo, perché se la superassimo e rimanessimo sopra stabilmente, è un conto. se non ce la faremo, ecco, chiuso il mensile, tra sette giorni di borsa aperta in avanti possiamo averlo chiuso, poi andrei a vedere che top di nuovo si farà se supereremo il top del primo mensile, se non lo supereremo, mi verranno i brividi. Direi che per la prossima settimana ci siamo già detti tutti, è tutto. Settimanale inverso, vincolato a far salire i prezzi ancora per i prossimi tre giorni, due giorni, ok? Poi attenzione, quindi noi valuteremo fino a quando fare long sui minimi che ci potranno dare. Magari un minimo decente per la chiusura di un due giorni di un ciclo T-2 ci piacerebbe per poter comprare a un buon prezzo, ma attenzione perché qui è possibile che non sia neanche partito il secondo T-3, il secondo ciclo giornaliero, qui poi avevo chiuso il primo, poi salita ancora e poi dopo discesa. Si sono presi un bel vantaggio. Per cui ricordatevi che esaurito il tempo per chiudere questo e per chiudere il mensile inverso dopo la salita che ci può essere ancora per buona parte della prossima settimana, attenzione ad andare long. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci. Uh, se vi è piaciuta l'analisi, tra l'altro, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, siamo più di 14.000 persone iscritti, trader, che non vogliono più far parte del parco buoi, che non vogliono più farsi prendere in giro da chi racconta delle cose che non servono assolutamente a nulla per capire dove vanno i mercati, iscrizione gratuita al canale, cliccate sulla campanellina e sarete sempre i primi a sapere quando uscirà una nuova analisi. Grazie per il vostro tempo, buona serata e buona domenica a tutti. Grazie a tutti.